sapete qual è la cosa che mi fa più paura della nuova stagione a parte che da zon trasmette le partite e questa cosa mi fa venire la pelle d'oca così già che da zon trasmette le partite io so che lancerò delle bestemmie che mi sentiranno fino dall'altra parte del mondo ma sapete qual è la cosa che mi fa più preoccupare di quest'anno ve lo dico adesso mettetevi comodi perché vi faccio rizzare i capelli vi faccio rizzare i capelli se li avete io non ce li ho ma se li avete vi faccio rizzare i capelli preparatevi al peggio preparatevi al peggio tenetevi forti tenetevi forti bevetevi un whisky di prima mattina perché quello che sto per dirvi vi manderà cappa ora ragazzi prima di tutto iscrizione al canale mi raccomando iscrizione al canale supporto per i contenuti like commento condivisione ma mi raccomando iscrizione al canale dobbiamo arrivare a 2005 ne mancano non mi ricordo tre o quattro iscritti quindi dai 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 quando ero al mare mi sono perso una una novità che quando adesso ve la dico ragazzi magari alcuni di voi già la sanno ma io siccome non la sapevo ieri mi volevo ubriacare per non pensarci sapete chi sarà il nuovo designatore arbitrale lo sapete ve lo sto per dire ragazzi incominciate a toccarvi le palle incominciate a toccarvi le palle toccate ferro sarà l'ex albitro rocchi il nuovo designatore arbitrale sarà rocchi lo conosciamo chi è rocchi lo conosciamo chi è rocchi non voglio stare lì a infilare il coltello nella piaga ma lo conosciamo il nostro amico rocchi cosa ha combinato negli anni passati quando arbitrava ma lasciamo stare lasciamo stare e già questa notizia mi ha sconvolto la giornata ma la cosa che mi sta sconvolgendo più di tutto è perché vi ho detto ne vedremo delle belle preparatevi al peggio è che rocchi il bellissimo rocchi ha detto che ci saranno penalità penalizzazioni per gli arbitri che dopo un errore vanno al var cosa vuol dire se un arbitro darà da un rigore da un'espulsione da quello che volete e dopo un evidente errore viene chiamato al var quindi si è accorto che c'è stato l'errore e lui va al var verrà penalizzato ragazzi quindi la domanda è quando un arbitro darà un rigore e sa di aver sbagliato dopo perché verrà chiamato al var per non andare incontro alla penalizzazione alla multa quello che gli daranno chi cazzo ci va più al var chi andrà più al var non ci andrà più nessuno al var quando lo andranno a vedere il var a questo punto perché se subentra questa cosa della penalità per l'arbitro che fa un passo indietro quindi deve andare a guardare al var e poi verrà punito chi cazzo ci va al var dopo ragazzi aspettatevi di tutto ne vedremo delle belle ne vedremo delle belle e poi c'è il nostro amico da zon che trasmetterà le partite e per noi youtuber io come tanti altri che facciamo le live reaction ci sarà da divertirsi perché vedere una partita fare la live reaction speriamo che non si interrompa la connessione perché se no sarà non so come faremo a fare la live reaction quest'anno perché io spero dio che vada bene la connessione ragazzi ne vedremo delle belle video molto veloci oggi perché non c'è molto da dire volevo solo avvisarvi ragazzi incrociate le dita toccatevi le palle e che dio ce la mandi buona grazie a tutti